Sono veramente contento perché non me l'aspettavo, se mi guardo indietro ripenso a due anni fa quello che è successo, parlo dell'infortunio e oggi sono qua a quasi 40 anni e aver rinnovato il contratto per un altro anno con il Bari per me è un motivo di orgoglio e sono molto felice. Non penso che ci sia un segreto, penso che la voglia, il svegliarsi la mattina e andare sempre alla ricerca di raggiungere obiettivi è questo penso il segreto più importante. Quando ho firmato il contratto quest'estate il mio obiettivo era mettere in difficoltà il mister e dimostrare a me stesso che potevo ancora giocare in Serie B, che era il mio campionato che l'ho fatto per 20 anni. Ormai sono 23 anni che gioco a calcio e sono stato sempre così, nel senso anche quando ero più giovane io sono uno che arriva al campo due ore prima e partiva due ore dopo perché mi piace vivere lo spogliatoio mi piace prendere in giro e mi piace essere preso in giro. Per me contano tantissimo le motivazioni e quest'anno siamo partiti per fare un campionato tranquillo, per stupire, per salvarci però volevo sognare e questo è il mio obiettivo e stiamo lavorando per questo.